Fondali puliti a Lerici compie 30 anni e quest'anno la Lega Navale di Lerici, Lerici Sub in collaborazione con Seas Shepard Italia e con il patrocinio del comune di Lerici hanno deciso di celebrare questo importante appuntamento rattoppiando la loro presenza qui sul territorio, non solo domenica la tradizionale manifestazione della pulizia dei fondali e della consegna della bandiera blu da parte del sindaco di Lerici ma anche due giorni che partono sabato oggi di conferenze dedicate al mare, alla subacquea e all'ambiente. È un compleanno che ci vede insieme con i sub di Lerici, con Lerici Sub, con la Lega Navale, quindi Seas Shepard, tante realtà importanti che finalmente lavorano assieme, che hanno obiettivi comuni, l'obiettivo comune è quello che sta diventando uno degli obiettivi più importanti per la mia amministrazione, l'ambiente e quindi la promozione di tutto ciò che serve anche per educare ad una vita più rispettosa di quelli che sono gli equilibri naturali nel nostro pianeta. Io penso che i comuni abbiano un ruolo importante in questo perché siamo l'ente territoriale più vicino alla gente, più vicino ai giovani e dobbiamo quindi dare importanza a ciò che incide direttamente su quelli che sono le condizioni ambientali del nostro territorio. Penso che le due ordinanze, plastic free e il divieto di fumo lungo la costa, siano due ordinanze molto importanti anche perché intanto iniziano a interessare un ambito del territorio frequentato dai più giovani, le spiagge, le nostre coste e quindi i giovani capiscono che ad esempio fumare è un valore che non è trattabile, non ha diritto alcuno di esistere un diritto al fumo perché il fumo è solo negativo e quindi sia per la loro salute sia per l'ambiente. Questo è ciò che vogliamo trasmettere in primo luogo obiettivi culturali di crescita culturale e in particolare tra i più giovani. Se saltiamo questa generazione dovremmo aspettarne una nuova e il pianeta non può più aspettare. Infatti proprio oggi nelle sale del castello sono anche visibili dei lavori di un progetto, Progetto Giona, anche questo legato alla valorizzazione dell'ambiente, dell'ecosostenibilità e dedicata ai più giovani, sempre con lo stesso obiettivo quindi. Sì, devo fare i complimenti alla professoressa Nascetti perché veramente ha una carica importante, la scuola deve occuparsi di questi temi, hanno fatto una cosa bellissima, giù nella sala del castello ci sono delle opere, dei lavori veramente di qualità fatti dai ragazzi quindi l'impegno è notevole e quando appunto si raggiungono certi risultati vuol dire che ci si crede nelle cose e far capire ai più giovani che anche gli adulti hanno dentro di loro la voglia di cambiare il mondo è importante. Questo ripeto come sempre dobbiamo lavorare sui più giovani perché le prossime generazioni devono avere una consapevolezza molto forte dell'importanza dell'ambiente. Come sono cambiati i nostri fondali, fondali del golfo in questi ultimi anni? Ma sicuramente dei cambiamenti ci sono stati, noi adesso la regione Liguria sta lavorando su tutto quello che è il fronte della costa per darci un po' quella che è la situazione attuale e gli interventi da realizzarsi. Noi abbiamo già avuto un incontro con Enea, uno studio privato che si occupa di appunto di lavori sulla costa e con loro esamineremo il materiale che a novembre dovrebbe arrivare dalla regione perché questo ci interessa anche in particolare per i fondali di Sant'Erenzo quindi la gestione della spiaggia Sant'Erenzina e in particolare poi per aree dove invece occorre fare ripascimenti come la spiaggia della Vittoria a Fiascherino e poi comunque conoscere la propria costa ai nostri fondali è un elemento determinante per capire quello che accade e quali sono soprattutto anche le condizioni diciamo ambientali di qualità della vita. Insomma il Comune di questo si deve occupare e di questo ci occuperemo sempre di più nei prossimi anni. La Lega Navale di Lerici è sempre più attiva qui sul territorio. Oggi è organizzatore di una manifestazione importante, i fondali puliti a Lerici e che ha deciso di realizzare due giorni di conferenze dedicate all'ambiente. Perché questa decisione? La Lega Navale insieme a Lerici Sub hanno creato questa manifestazione 30 anni fa. È stata la prima manifestazione di fondali puliti nel Golfo di La Spezia. È nata tra l'altro in un periodo particolare dove avevamo ancora la caratteristica di demolizione navale quindi l'acqua del Golfo era inquinata in maniera pesante. Quindi inizialmente effettivamente si chiamava fondali puliti se abbiamo il Golfo ora abbiamo lasciato per storicità. Non abbiamo più questi problemi fortunatamente l'acqua del Golfo è un'acqua bellissima del nostro mare e continuiamo a cercare di ricordare soprattutto alle giovani generazioni di tenere il mare pulito che non è una spazzatura per cui bisogna preservarlo e con queste manifestazioni cerchiamo di tenere alto il valore del nostro mare che chiaramente rientra nella nostra catena alimentare e tutto quello che viene buttato in mare tramite i pesci poi ce lo andiamo a rimangiare sostanzialmente. Quest'anno abbiamo deciso di ampliare la manifestazione a due giorni per il semplice motivo che ci sembrava giusto coinvolgere le più grandi aziende di subacquea italiane abbiamo Mares, abbiamo Cresis Sub, abbiamo Geosub, abbiamo tante aziende di didattica abbiamo Little Met che insieme a Mediolan sono i nostri maggiori sponsor che ci permettono di poter realizzare questo e per cui questo qui potrebbe essere la prima manifestazione dei 30 anni che negli anni futuri potrebbe diventare la nostra intenzione di farla diventare una grande manifestazione di subacquea del nostro Golfo dei Poeti. Quindi possiamo definirlo un anno zero per un'evoluzione, non solamente pulizia dei fondali ma anche sempre di più sensibilizzazione e conoscenza. Certo, la subacquea è un mondo sommerso, un mondo che non tutti conoscono però incuriosce tutti quanti. Nel nostro Golfo abbiamo tantissime realtà, abbiamo delle specie particolari, abbiamo dei reliti bellissimi da aerei a navi, abbiamo delle colonne romane proprio qui nella baia qua sotto al castello di una nave romana affondata all'epoca dei romani con delle colonne in marmo provenienti da Carrara. Quindi abbiamo un po' di tutto. Non è conosciuto forse dal punto di vista subacqueo, tutti quanti se ne vanno in giro per il mondo ma siamo a due ore da Milano, un'ora a Parma, un'ora da Reggio Emilia per cui... Venite. Venite insomma, venite all'erici, venite a conoscere i nostri fondali e le nostre realtà, delle nostre piccole insegnature che sono le più belle del mondo. Fondali Puliti celebra a 30 anni quest'anno una manifestazione che è fra le prime realizzate all'erici e quindi nella nostra provincia è realizzata appunto dall'erici sub. Esatto, esatto. È stata una delle prime anche nel suo genere, non solo a livello provinciale ma probabilmente anche a livello nazionale. A quell'epoca, tant'è, il fondale non è una cosa che normalmente la gente vede e a nessuno veniva in mente che la roba che buttavano in mare sarebbe stata lì per chissà quanto tempo e avrebbe fatto danni per chissà quanto tempo. A noi che andavamo sott'acqua invece il quadro era chiaro e quindi è venuto naturale a un certo punto cercare di fare questa manifestazione non tanto perché potessimo pulire i fondali ma per sensibilizzare le persone a non sporcarli. Poi naturalmente non siamo stati soli né a fare la manifestazione né a cercare di sensibilizzare la gente normale al rispetto della natura tra cui quello dei fondali marini. E noi questo l'abbiamo constatato perché i primi anni veniva su di tutto, veramente di tutto. Frigoriferi qualche volta, batterie non ne parliamo, batterie sappiamo quanto siano nocive all'ambiente marino biciclette, una volta un paio di sci, come diavolo fossero finiti lì non lo sa nessuno adesso sfortunatamente, o meglio fortunatamente, questa varietà non c'è più decisamente c'è molta più attenzione, almeno qui all'Eggi. Quindi c'è più rispetto per l'ambiente da 30 anni a oggi, questo è cambiato? C'è più rispetto per il nostro male, per i nostri fondali? Secondo me sì, magari non ce n'è abbastanza ancora, non dico che sia finita ma se guardiamo come era in passato, sì sì sì. Questo come tante altre iniziative naturalmente forse sono servite a qualcosa. Nella manifestazione di quest'anno è presente come partner anche Sea Shepherd Italia, perché la decisione di collaborare in questo progetto. Il legame col territorio è sempre stato fortissimo, la nostra associazione nasce appunto a Spezia nel 2010 e da allora i rapporti sia con le amministrazioni che poi con le associazioni locali sono diventati sempre più forti fino a sfociare quest'anno in questa grande manifestazione in collaborazione con la Lega Navale e l'Erici Sub patrocinata dal Comune di Lerici che ci ha visto protagonisti di questi due giorni. Noi a differenza di tutte le altre associazioni ciò che ci contraddistingue è l'azione diretta e come persone appunto vocate all'azione non potevamo non cogliere l'occasione che ci forniva il Presidente Moglia e Daniele dell'Erici Sub di partecipare in questo evento. Noi come associazione siamo presenti con i nostri subacui, sono degli esperti sub che si occuperanno della rimozione dei rifiuti sui fondali, abbiamo il nostro merchandise ufficiale che permette a tutti i nostri sostenitori di sostenerci e permettere che le nostre navi rimanghino sempre in mare perché ogni giorno in più delle nostre navi in mare sono vite che vengono salvate. Noi veniamo considerati un po' i pirati dell'ecologia, però noi come dice il nostro fondatore siamo dei pirati di compassione che danno la caccia ai pirati del profitto. Presente alla manifestazione di quest'anno di fondali puliti anche il gruppo Sub del Golfo, un gruppo particolare perché vede unite assieme la Lega Navale di Lerici e della Spezia. Sì, è un gruppo Sub nato ormai da due anni che unisce le sezioni subacquee di tutte e due le sezioni della Lega Navale che si affacciano qua sul Golfo di Spezia, quindi la sezione di Spezia e la sezione di Lerici. Dall'anno scorso stiamo facendo attività con i soci della Lega Navale e stiamo facendo un po' di scuola per nuovi allievi, chi si vuole aggiungere e raggiungere questa disciplina della subacquea ricreativa. Sarete in mare anche domani proprio per fondali puliti e perché diventare subacqueo? Intanto perché è bello, è una disciplina come dicevo che ti mette a contatto con una dimensione nuova, un po' strana per noi bipedi terrestri ma sicuramente è affascinante. Poi perché dà modo di stare insieme, è una disciplina aggregante, socializzante sicuramente e poi perché come succederà domani c'è la possibilità anche di dare una mano all'ambiente. Una domanda, com'è immergersi nel nostro golf? Una sensazione fantastica, il mare poi è stupendo soprattutto alle meraviglie che si possono vedere sott'acqua, è una sensazione davvero unica. Un invito ai ragazzi per provare il battesimo del mare almeno? Assolutamente sì, come diceva il nostro direttore didattico è un'esperienza prima di tutto aggregante, per tutto interessante, bellissimo, il mare è stupendo, è un mondo affascinante. Dobbiamo soprattutto essere noi capaci di tenerlo in vita, di tenerlo soprattutto bene, quindi vi invitiamo tutti qui all'Erici, qui nel golfo di Aspezia per effettuare il vostro battesimo del mare e proseguire con i vari corsi che sono previsti. Grazie a tutti.